la spezia e ce lo dirai in anteprima Ciro venerato eventualmente giusto Ciro? ti salutiamo così con il sorriso come sempre l'applauso di Wembley l'applauso a quell'Italia che ci ha portato sul tetto d'Europa grazie davvero a tutti voi grazie alla squadra della Domenica Sportiva ma grazie soprattutto ai telespettatori della Domenica Sportiva che ci danno sempre tante soddisfazioni torniamo domenica prossima arrivederci